Un nuovo ripassone, oggi parliamo di Goldoni. Ti presento come al solito uno schema, prendi carta e penna, riproducilo mentre mi ascolti per memorizzare al meglio quello che diremo. Goldoni nasce nel 1607 ed è il protagonista della riforma del teatro in Italia. Fin da ragazzo ha questa passione del teatro anche se fa studi giuridici seguendo il volere del padre. Nel 1734 però conosce il capocomico Imer, cioè l'impresario e il direttore di una compagnia di attori e comincia la sua avventura. La sua riforma del teatro consiste essenzialmente in questo, nel passare da un teatro di improvvisazione, quello della commedia dell'arte fatto da maschere, le maschere tipiche italiane, pantalone, arlecchino, colombina eccetera eccetera, maschere quindi attori che interpretavano un ruolo fisso, un tipo e che avevano un loro repertorio di battute e di gag che improvvisavano dunque concordando semplicemente una trama, un canovaccio diciamo, un plot di riferimento. Quindi passare da questo teatro, cioè il teatro della commedia dell'arte e dell'improvvisazione, a un teatro invece più moderno, completamente scritto in tutte le sue parti e quindi più complesso, capace di intrecci sempre nuovi e capace di rappresentare il mondo reale con grande realismo, con grande fedeltà, soprattutto proponendo sempre personaggi realistici, individui concreti e non più le maschere. Quindi questa è la riforma. Vediamo che per seguire questa riforma, che riguarda innanzitutto la prima fase della sua vita, cioè quella che vedi in blu, 1734-47, legata alla collaborazione con il capocomico Imer per il teatro di Venezia San Samuele, dicevo in questa fase egli gradualmente scrive prima dei canovacci, poi comincia a stendere le battute dei protagonisti, quindi soltanto alcune parti vengono scritte, le altre e gli altri personaggi continuano a improvvisare, finché arriverà nel 47 alla prima completamente scritta, la prima commedia completamente scritta che è la donna di Garbo. Per quindi seguire questa riforma egli si ispira a due maestri, ce lo dirà nella sua autobiografia, il mondo e il teatro, cioè il mondo deve fornire i caratteri e le storie, le vicende. Vuol dire che invece di un repertorio ormai fritto e rifritto di gag della commedia dell'arte, le commedie di Goldoni saranno delle commedie che si ispirano alla vita reale della borghesia e della città di Venezia, cioè alla natura, alla realtà. Quindi il mondo fornisce le storie e i personaggi, cioè si passerà gradualmente dalla maschera stereotipata, dal tipo, dalla caricatura stereotipata, a personaggi realistici, personaggi in cui lo stesso pubblico borghese può rispecchiarsi. Teatro. L'altro maestro di Goldoni è il teatro. Fin da adolescente, nonostante avesse studiato da avvocato, aveva sempre seguito con passione la commedia dell'arte, era scappato a 16 anni addirittura dal collegio di Rimini per raggiungere la madre a Chioggia insieme a una compagnia di attori. Egli dunque ha un grande rispetto per gli attori della commedia dell'arte, non forza troppo la mano su di loro ma gradualmente li convince a passare dalla recitazione improvvisata allo studio del copione e della parte. Abbiamo detto che all'inizio anche non butta via subito le maschere, ma mantiene la maschera di pantalone, per esempio di Arlecchino, magari dotandole di una maggiore complessità e psicologia. Oppure rispetto agli attori perché nello scrivere la commedia cuce intorno, diciamo così, alla personalità e ai pregi di un certo attore che aveva nel cast a disposizione il personaggio giusto. Insomma, è uomo di teatro, non è un letterato, è uno che conosce bene tutte le difficoltà e le potenzialità del palcoscenico e il teatro gli insegna anche a tenere conto delle aspettative e dei gusti del pubblico. Ma passiamo alla fase del grande successo in cui egli può smettere di fare l'avvocato e dedicarsi interamente alla sua passione di scrittore teatrale. 1748-1753, teatro Sant'Angelo, la collaborazione è con Medebach, un altro capo comico. La riforma teatrale è ormai attuata ed ha anche un grande successo di pubblico, tant'è vero che nel 1750 egli fa una scommessa col suo pubblico. Scriverà 16 commedie nuove e le metterà in scena 16 commedie in un anno e ci riesce con grande successo. Sono i momenti di grande gloria di cui abbiamo anche i titoli più famosi come La bottega del caffè del 1750 e La locandiera del 1752. Egli in queste commedie rappresenta la società borghese del suo tempo e è anche vicino e rispecchia gli ideali illuministici. Infatti egli si identifica con quel borghese che è il suo pubblico ma che è anche il protagonista delle sue commedie. Come vedete abbiamo ormai superato le maschere, non ci sono più le maschere ma ci sono protagonisti che sono dei borghesi, che si riconoscono nell'etica di un lavoro e di un'onestà e di una franchezza nel comportamento, nella onorabilità della propria professione, nell'orgoglio del proprio lavoro e delle proprie capacità. Emerge anche una certa antipatia per la classe nobiliare, vista come dei parassiti che sono pieni di privilegi e che sono prepotenti e poco produttivi. Questo lo si vede sia nella locandiera per esempio nel personaggio del conte d'Alba Fiorita o del marchese di Ripafratta. L'uno un borghese arricchito che vuole, ha comperato la nobiltà e che quindi sperpe dei suoi soldi soltanto per apparire nobile. L'altro un nobile squattrinato che quindi pretende dei particolari privilegi senza pagare mai il conto. Anche nella bottega del caffè abbiamo un aspetto critico dei nobili per esempio, non so, il personaggio del nobile napoletano che è un intrigante. Bene, Goldoni propone nei suoi borghesi l'ideale di una società armoniosa. Il borghese sa trattare col popolano e col nobile, sa stare al suo posto, conosce il suo valore ma non vuole rivoluzioni sociali, vuole semplicemente un'armonia e un equilibrio. Un equilibrio che egli ha anche nella sua vita tra interesse ed affetti e un buon senso pratico che per Goldoni è sicuramente una grande dote del borghese. Ma questa visione idilliaca, questo rapporto privilegiato col borghese sia pubblico sia come personaggio delle sue commedie si incrina nella terza fase, nel 1753, e gli passa al Teatro San Luca che oggi si chiama Teatro Goldoni e ci lavora fino al 1762. È l'ultima fase, una fase un po' di crisi. Egli infatti entra in crisi col suo pubblico che diciamo così lo tradisce andando alla concorrenza. Il Gozzi, il Chiari, sono due autori che operano a Venezia e propongono un teatro fiabesco ed avventura, ricco di colpi di scena e a volte anche improvvisato, quindi tutto il contrario della poetica, della realtà del mondo e del teatro del Goldoni. Ed egli quindi è deluso dal pubblico che preferisce questi generi. Cerca anche lui di riprodurre un teatro fantastico con la trilogia persiana del 1753, ma la cosa non lo intriga e non fa parte delle sue corde. Torna dunque a parlare dei borghesi, ma stavolta in toni critici, evidenziandone dei difetti, come ad esempio l'ossessione dell'apparire, l'ossessione dell'ostentare la propria ricchezza. Questo si vede bene nella trilogia della villeggiatura, dove vediamo le smanie della villeggiatura. Si fanno debiti pur di andare in villeggiatura in modo da dimostrare di essere facoltosi e di ben figurare con i vestiti nuovi. Poi durante la villeggiatura si ha il terrore delle malelingue, del giudizio, della critica. C'è un tipo di società rappresentata, quella borghese, essenzialmente competitiva. E dove sì, si intrecciano amori anche nella trilogia della villeggiatura, ma è veramente forte la critica contro questa ossessione del borghese di apparire ricco e di essere ammirato e questo suo atteggiamento competitivo è sempre preoccupato delle spese. I rusteghi anche del 1760 propongono altri aspetti negativi del borghese. Ad esempio appunto i rusteghi sono i padroni di casa, i padri di famiglia, gente quindi i borghesi che hanno lavorato, hanno una solida posizione economica, ma che sono appunto rusteghi, cioè hanno una durezza di cuore, una grettezza, una rozzezza di rapporti umani, di relazioni umane. Pensano solo ai soldi, solo agli affari. La moglie e i figli vengono sì mantenuti, ma vengono trattati come insomma sottoposti. Il rustego, il capofamiglia, siccome paga, siccome mantiene, pretende di comandare e non si preoccupa della felicità dei propri figli, ai quali impone matrimoni di interesse. Compaiono anche nuovi personaggi, 1756, il campiello, 1762, le baruffe e chiozzotte, sono due commedie di popolo e di ambiente. Che vuol dire commedie di ambiente popolare? Vuol dire che noi vediamo in queste due commedie la vita del popolo e lo vediamo con una giornata tipo in un ambiente popolare. Il campiello è la piazzetta dove le donne raccontano la piazzetta del popolo, del quartiere povero, dove le donne facendo le loro faccende raccontano i loro guai. O le baruffe e chiozzotte, vuol dire le baruffe, cioè le litigate a Chioggia. Si tratta del litigio di tre giovani coppie dovute all'arrivo appunto di uno di questi tre ragazzi, Toffolo, che corteggia un po' tutte le ragazze facendo ingelosire i rispettivi fidanzati. Bene, il popolo appare adesso più positivo del borghese, cioè Goldoni vede quelle qualità umane di solidarietà, di sincerità nei rapporti, di sensibilità verso le miserie altrui, pur nel momento della baruffa sincera e anche passionale, e quindi vede nel popolo quelle doti di umanità che nel borghese ormai non vede più. Nel 1763 egli si trasferirà a Parigi, invitato dalla Commedia Italienne, ma rimane deluso perché la sua riforma non può essere attuata in Francia. Infatti la Commedia Italienne, che è una commedia dell'arte, di nuovo maschere, gag, danze, balli e poca attenzione alla trama e al realismo, la Commedia Italienne a Parigi piaceva così com'era, mentre il teatro letterario più complesso era già stato proposto già da un secolo, da Molière o nella tragedia da Racine. Quindi si ritorna ai canovacci e gli si ispira un po' al modello di Molière scrivendo qualche commedia, il burbero dal buon cuore, il ventaglio, ma insomma non ha molto spazio perché né gli attori della Commedia Italienne né il pubblico hanno interesse a rinnovare il teatro che a loro va benissimo così, cioè come commedia dell'arte. Egli dunque si ritirirà a Versailles come maestro di italiano alla corte del re e quando però scoppierà la rivoluzione francese perderà anche questa fonte di reddito, questa pensioncina e morirà molto povero a Parigi. Le Memoir sono in francese l'opera della sua autobiografia. Un'ultima parola sulla lingua dunque. Già in Francia scrivere commedie fu un problema perché comunque non aveva una perdonanza perfetta del francese pur conoscendolo piuttosto bene. La lingua del Goldoni è una lingua nelle commedie estremamente variabile proprio perché si adatta ai personaggi, vuole essere in funzione realistica uno strumento che ben evidenzia la realtà degli individui, la concretezza dei personaggi e la loro complessità psicologica. Quindi non è un uso del dialetto come nella commedia dell'arte che caratterizzava le maschere, non so appunto il veneziano di Arlecchino o il napoletano di Pulcinella. È una lingua invece che in alcuni casi è una sorta di italiano nazionale che si ispira al toscano e al volgare dell'Alta Italia. In altri casi si tratta del dialetto veneziano che proprio rende ancora più vivaci, più vivide, più vicine al pubblico, le sue commedie. In particolare appunto il dialetto emerge nelle baruffe chiozzotte dove chiozzotto vuol dire di chioggia, chioggiano e proprio vediamo il dialetto chioggiano che ben rappresenta la vitalità del popolo. Bene, per ulteriori approfondimenti ti consiglio di guardare anche